Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo all'easy anti cheat che non è installato oppure che non funziona e non si avvia assieme a Fortnite nel capitolo 5 della stagione 3 di Fortnite quindi in questo caso andiamo prima nella sua cartella quindi entriamo su Epic Games andiamo direttamente nella sua libreria questa è la libreria mia dei giochi vai su Fortnite 3 puntini vai direttamente su gestisce entriamo così nella sua cartella vai su Fortnite Game Binary 1.64 una volta fatto cancella così la cartella dell'easy anti cheat scendi fino a giù fino a trovare così Fortnite Client 1.64 shipping cancella anche quest'altro programma chiudi un attimo qua una volta fatto andiamo direttamente su esegui quindi vai su esegui vai a scrivere qui %updata % fai ok entriamo così nella sua cartella quindi vai su updata vai su local scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Fortnite Game questa è la cartella di Fortnite cancelliamo così la cartella di Fortnite e dobbiamo cancellare anche la cartella di Epic Games prima di cancellare questa cartella andiamo a chiudere Epic Games cancelliamo così la cartella di Epic Games cancelliamo così la cartella di Epic Games assicuriamoci che le due cartelle siano eliminate quindi per sempre sia sul local law che roaming quindi andiamo a vedere se qui c'è qui non c'è niente roaming easy anti cheat cancella anche la cartella di easy anti cheat questa qua ok non c'è più niente una volta fatto entriamo direttamente su Epic Games dobbiamo rifare l'accesso quindi fate l'accesso con il vostro account qualsiasi google oppure l'account epic o un account un altro account quindi entriamo su Epic Games quindi Epic Games avvialo come amministratore quindi epic games launcher esegui come amministratore rifacciamo l'accesso con il nostro account ok una volta eseguito così l'accesso andiamo nella libreria andiamo su Fortnite 3 puntini vai su gestisci e facciamo la verifica ai file e attendiamo una volta finito così la verifica ripristinerà tutti i file nella sua cartella se non dovesse funzionare possiamo sempre andare su servizi quindi vai su servizi scendi fino a giù fino a trovare così il servizio di Epic Games Online Service questo qua è l'easy del anti cheat tutte e tre easy anti cheat epic online e questi altri due servizi easy anti cheat cerchiamo sopra tipo di avvio tienilo manuale e fai applica è stato il servizio che è arrestato perché ora non c'è nessun programma che sta usando l'easy anti cheat quindi non serve che lo avviamo perché poi è uscirà l'errore dicendo che non c'è nessuna applicazione che sta usando il servizio quindi fai ok easy anti cheat stessa cosa anche con questo mettilo su manuale una volta fatto Epic Online Service avvia così il servizio di Epic Online Service questo qua invece lo vieni su automatico però avvio o ritardo quindi mettilo su automatico non il primo mette automatico questo qua ok una volta fatto quello che ci resta da fare è aprire Fortnite e vedere se funziona è in esecuzione il gioco è andato un altro passaggio che voglio spiegarvi è andare direttamente nella cartella ritorniamo così nella cartella di Fortnite vai direttamente su Fortnite game binaris win64 entra così nella cartella lisi anti cheat c'è scritto certificato installa così il certificato installa certificato utente corrente facciamo avanti facciamo avanti fine installiamo il certificato importazione completata e facciamo ok ok per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video cercherò di realizzare altre guide riguardo all'isi anti cheat quindi in questa nuova stagione di Fortnite stanno avendo alcuni problemi riguardo all'isi anti cheat che non è installato nel computer quindi non riesci a giocare quindi quando avvii Fortnite non si avvia neanche lisi anti cheat per altri problemi ancora come ho detto commentate sotto al video grazie a tutti per questa visione iscriviti, lascia il like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao